Stefano Borghesi, perché siete davanti al CIE di Roma? Per lanciare la nuova campagna referendaria contro l'abolizione del reato di clandestinità. Riteniamo che questa abolizione sia stata una vergogna ad opera della sinistra e ad opera dei ghibellini, quindi è più che mai necessario venire a firmare il nostro referendum per ripristinare questo reato di clandestinità. Tanti clandestini stanno arrivando sulle nostre coste in questi giorni? Sì, tanti clandestini, tanti richiedenti asilo, vale la pena ricordare quello che ha scritto anche Gian Antonio Stella che non mi sembra essere molto vicino alle nostre posizioni riguardo a quella solidarietà che dimostriamo nei confronti degli immigrati. Scriveva che a un parente di un tunisino richiedente asilo è stato concesso una pensione di 290 euro al mese e concludeva l'articolo chiedendosi se possiamo permettercelo. La solidarietà è una buona cosa ma in un momento come questo sicuramente la solidarietà da salotto bene non possiamo più permettercela perché le fasce deboli della nostra popolazione faticano ad arrivare alla fine del mese. Per loro non ci sono quei 290 euro che magari garantiamo al tunisino disabile che è riuscito a farsi garantire un assegno dall'Inps in Italia. E tutta questa situazione secondo la Lega Nord è colpa per l'operazione Mare Nostrum? Ma è certo nel momento in cui tu lanci un messaggio ai trafficanti di uomini che non c'è nessun problema ad accogliere lì quelle persone che anzi li andiamo a prendere appena a largo delle coste è chiaro che questi arrivano. Secondo il Ministro Alfano invece noi stiamo facendo tutto questo per un 1% in più. No, noi stiamo facendo tutto questo proprio per difendere casa nostra. Il nostro futuro dipende anche dalla capacità di accogliere queste persone che al momento non siamo ovviamente in grado di fare. Dati i numeri, un milione di persone pronte a partire per casa nostra non siamo in grado di accoglierle. Perché è una priorità risolvere questa emergenza clandestini? È una priorità perché c'è una vera invasione. I numeri sono allarmanti. Nel scorso anno decine e decine di migliaia di immigrati sono sbarcati sulle nostre coste e più delle volte sono sfuggiti ai controlli. Siamo davanti al CIE di Roma giusto per rivendicare il diritto di mantenere correttamente come si è svolto negli anni passati il mantenimento dell'apertura dei CIE in Italia. perché necessita identificare gli immigrati che sbarcano sul nostro territorio e con l'emergenza sanitaria che c'è in corso sugli immigrati che arrivano nel nostro paese è necessario capire che cosa entra nel nostro territorio. Oltremodo siamo anche qua a ribadire il concetto che il reatto di immigrazione non è da abrogare.